I televisori Samsung della serie JU6400 sono Smart TV dotate di pannello LED Ultra HD. Questi TV sono dotati di un design moderno e minimale, con linee squadrate che li trasformano in ottimi complementi d'arredo. La parte posteriore è dedicata alle interfacce di collegamento. Ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di accoppiare i dispositivi con sistemi audio o video esterni in tutta facilità. I TV Samsung della serie JU6400 sono dotati di un pannello Ultra Clear, con una risoluzione 4 volte superiore ai normali TV Full HD. Le innovative caratteristiche video come Micro Dimming Pro e Wide Color e Nancer Plus rendono ancora più uniti delle immagini, regalando colori pieni ed estremamente realistici, permettendo un'esperienza di totale immersione all'interno della scena. A questo si aggiunge l'avanzata tecnologia Picture Quality Index di Samsung, che permette di rendere ancora al meglio le scene più veloci, con una nitidezza estrema e senza fastidiosi effetti scia. Ma la vera potenzialità questo TV la esprime quando si parla di Smart TV. La nuova interfaccia è incredibilmente intuitiva e propone una vasta offerta di intrattenimento e tante applicazioni di innegabile utilità, come il briefing quotidiano personalizzato e la possibilità di condividere i contenuti tra schermo e dispositivi mobili con un semplice click. Ogni funzione è facilmente raggiungibile in ogni istante grazie alla comoda barra inferiore che racchiude i contenuti più visti e si personalizza in funzione del vostro stile di utilizzo del TV. Samsung JU 6400 è una Smart TV completa e del design elegante, un dispositivo adatto ad ogni soggiorno ed ideale per gli amanti del cinema.